ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video allora di cosa parliamo oggi semplice della maglia numero 10 perché a quanto pare la juventus potrebbe ragionare su un nuovo nome a cui affidare la 10 dopo la partenza di paolo di bala di quest'estate mancano quattro partite di campionato più la finale di cup italia e poi paolo di bala non sarà più ufficialmente un calciatore della juve quindi la maglia numero 10 la maglia più pesante di tutte che alessandro del piero e tanti altri prima di lui hanno reso super indimenticabile super grande nella storia del calcio e nella storia della juventus rimarrà libera non avrà più un padrone ed ecco che il nome di federico chiesa potrebbe essere quello giusto per il numero 10 prima di sapere qual è la mia posizione a riguardo voglio però fare due paroline proprio di introduzione su quello che è accaduto ieri vi ho portato anche un video di tre minuti ieri sera non monetizzato perché non mi piace lucrare su cronaca nera o comunque su situazioni scomode o molto scomode come quella caduta minoraiola ci tengo solo a sottolineare una cosa per concludere il tutto perché qualcuno ha continuato a scrivermi dicendo che io sono un giornalista o comunque io mi metto allo stesso livello dei giornalisti questo è un grave errore ragazzi perché l'ho ribadito più e più volte a più riprese non sono un giornalista non faccio informazione io semplicemente le prendo e ve le dico quelle che elaborano persone pagate per fare questo mestiere che verificano persone pagate per fare questo mestiere e poi io ve le ributto in pasto ve le riporto ecco sì ve le riporto ma non le creo io non ho notizie non ho fonti non posso fare verifiche e poi do la mia interpretazione vi lascio la mia opinione stimolo il pensiero il ragionamento il dialogo la discussione e tutti insieme cerchiamo di creare qualcosa in cui scambiarci idee finisco lì non sono giornalista l'ho già detto tante volte tutti i video del calcio mercato con i giornalisti presenti ci tengo sempre a ribadirlo perché conto siete voi che guardate tutti i video e sapete la mia posizione un conto sono persone che magari non mi conoscono potrebbero avere anche il dubbio no dove vado sul canale questo qua questo qui come si considera come si vende come si descrive io non sono giornalista sto pensando riprendere il patente una giornalista pubblicista sì in questi ultimi mesi poi è una trattativa che va avanti a ritmi serrati sto cercando di capire la posizione sto cercando di incastrare anche questa cosa qui ma oggi non sono giornalista questo voglio che entri ben chiaro poi se voi mi vedete come giornalista perché magari tante notizie le ascoltate da me questo è un altro discorso ma io non lo sono se sono la vostra fonte di informazione è un conto non sono un giornalista io creo contenuti sono un content creator questo è voglio veramente che rimanga scolpito nella mente passiamo al punto focale del video invece paolo ibala se ne andrà e lo sappiamo tal proposito ho fatto anche un video no di commemorazione mi sembra un po eccessivo soprattutto dopo la giornata di ieri un video in cui ripercorriamo le orme di paolo dibala sin dal suo esordio in argentina fino ad arrivare la juventus alla finale di champions con la juve persa purtroppo a cardiff si chiama luca racconta paolo ve lo lascio qui sopra nelle schede la prima parte dovrà uscire la seconda che vedrà coinvolta cardiff fino all'addio alla juventus e perché no alla scelta della sua nuova squadra e quindi la maglia numero 10 rimarrà come me carica vacante rimarrà scoperta non avrà più un padrone io non so se questo video interessa a tanti io sono un amante dei numeri mi piace un sacco ma perché intanto sono un collezionista di maglia della juventus e quindi sto già ragionando sulla nuova maglia da andare a prendere no e allora l'altro giorno mi interrogavo di chi prendo la nuova maglia della juve ovviamente se parla di quella bianconera quindi escludiamo i portieri perché ci sono diversi giocatori che mi fanno dire potrebbe essere quella di giorgio chiellini il capitano che però quanto pare ragazzi non avrà un'altra stagione con la juve quindi quella maglia lui non la vivrà la indosserà magari l'ultima partita casalinga contro la lazio non lo so l'ultima partita in generale contro la fiorentina quella partita lì e basta e quindi giorgio diventa un nome che non prenderò delit è forse il mio nome numero uno perché mi piacerebbe tantissimo la maglia di delit ne ho già di maglia di delit ma vorrei passarlo alla prima maglia quella bianconera però minoraio la parte sappiamo che delit è un giocatore che non abbiamo la certezza proprio matematica che rimarrà alla juventus di chi la prendi di vlaovic sì però se poi la juve non riscatta morata e quindi si libera la 9 vlaovic te l'ha fatto capire chiaro e tondo io voglio la 9 il 7 l'ho scelto perché era il numero libero più vicino al 9 e quindi magari vlaovic cambia numero e rimango fregato di bala non la posso prendere perché non ci sarà più quadrado potrebbe essere un'opzione quadrado però mi piacerebbe in realtà una maglia di qualcuno più dentro la juventus che possa anche sfruttare per il futuro perché quadrado ha rinnovato per un ultimo anno come chiellini di cui parlavamo prima quindi non ci sono prospettive future interessanti né per uno né per l'altro di chi la prendo di 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 federico chiesa e se cambia numero perché il 22 in questo momento ce l'ha sì però se poi vlaovic prende davvero la 9 si libera la 7 o se la juve davvero vuole andare sul chiesa 10 di chi la prendo di locatelli ok ma si è liberato l'otto di ramsey e se locatelli vuol prendere l'otto non c'è un singolo giocatore in questo momento nella rosa della juventus di cui potrei scegliere la maglia tranquillamente in questo momento ho paura ho paura perché tutti comunque sono lì lì o per un'eccessione o per una non conferma o per un cambio numero e quindi qualsiasi maglia andrò a scegliere potrei avere delle brutte cattive sorprese non so se voi avete già fatto questo ragionamento perché comunque a breve metteranno in vendita la maglia la vorrò prendere subito e quindi bisognerà stare un attimo attenti chiesa 10 parliamo di chiesa 10 notizia riportata la gazzetta dello sport da fabiana della valle che saluto dato che ci siamo conosciuti più e più volte abbiamo anche fatto un video qui sul canale proprio nella trattativa che ha portato vlaovic alla juventus chiesa 10 allora a me piacerebbe tanto parto da qua mi piacerebbe tanto perché io mi esalto di fronte certe cose sono un po fanboy quindi chiesa 10 con la maglia la juve per me sarebbe allucinante sarebbe splendido sarebbe bellissimo fantastico non avrei neanche un dubbio quella maglia chiesa 10 bianco nera perché sì perché federico chiesa è il classico giocatore che è arrivato e non mi piaceva e grazie al campo le prestazioni sul campo mi ha completamente fatto ricredere mi ha ribaltato al 100 per cento l'idea iniziale e sono quei giocatori che ti fanno innamorare più di tutti quelli da cui non ti aspetti niente che comunque non consideri pronti ed eccoci qua ti mostro cosa sono in grado di fare quindi veramente federico chiesa per me è stata una scoperta fantastica e mi sono calcisticamente innamorato del ragazzo il 10 è il numero per eccellenza che mi ha fatto innamorare del calcio no alessandro del piero li unisco ed esce con la maglia lì dall'altra parte penso che federico non abbia nulla del 10 perché il 10 è classe eleganza e fantasia se vogliamo è un tipo di giocatore prettamente come paolo di bala abituato a giocare tra le linee federico è grinta esplosività velocità di esecuzione di ragionamento lotta tutto quello che non è un numero 10 quindi sarei un attimino stranito almeno nel vedere chiesa con la 10 perché chiesa non è un 10 dall'altra parte potrebbe essere semplicemente una mossa marketing della juventus intanto per blindare il giocatore anche se qua abbiamo un esempio molto fresco che è quello di paul pogba che aveva sì il 10 sulle spalle per una stagione e poi è stato venduto al manchester united quindi abbiamo munto la macca grassa per quell'anno con le maglie di pogba 10 e anche qua apro una parentesi come vi dicevo prima sono un fanboy ce l'ho come c'ho una maglia di tevez con la 10 come ne ho tantissime di ribala con la 10 perché il 10 è il numero è inutile ragazzi per chi come me è cresciuto calcisticamente nell'era in cui del piero totti erano quei giocatori lì di natale mi viene da metterci anche di natale o nell'epoca precedenti con i vari baggio maradona platini numero 10 numero 10 c'è poco da fare o chi è cresciuto nell'epoca messi anche se poi c'era magari a contrapposizione del set di ronaldo ma il 10 magico 10 numero magico e quindi sarei contentissimo di vederlo sulle spalle di federico chiesa sarei il primo ad acquistare la sua maglia capirei il ragionamento marketing alla base del tutto un'altra parte però vi dico federico chiesa non è un numero 10 non lo è federico chiesa me lo vedrei benissimo col numero 7 per poi fare anche magari il parallelismo con ronaldo se proprio vogliamo ma chiesa non è un 10 poi che sarebbe fantastica la sua maglia questo è un altro discorso ma questo è un problema grave importante io lo so che di là ci saranno dei ragazzi che ho delle ragazze che magari mi dicono sì ma luca ma che video è ma chi se ne frega no per me è gravissima questa situazione perché davvero non mi sono mai ritrovato nella condizione a fine anno a fine stagione di non sapere che maglia prendere di chi scegliere la maglia la prima maglia del prossimo anno perché non ho non ho certezze su nessun calciatore della rosa se non quadrato l'unico eventualmente potrebbe essere quadrato ma mi piacerebbe o quella di delit o quella di chiesa proprio perché lo ribadisco ormai sono un fanboy e credo che siano comunque i giocatori o vlaovic stesso che siano i giocatori sul quale costruire il futuro della juventus penso che lo pensino anche internamente alla società e quindi questo vi chiedo intanto chiesa 10 pro o contro vi piacerebbe o no comprereste la maglia terza opzione se siete malati come me e a fine anno dovete prendere la maglia della juve subito di chi la prendete cioè voi ci avete già pensato a questa cosa o vi ho aperto gli occhi soltanto io con questo video